Ripercorriamo gli ultimi 24 mesi sul pianeta Terra. Due settimane di lockdown e torneremo ad abbracciarci. Hashtag andrà tutto bene. Due mesi per abbassare la curva. Chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate. In estate non dobbiamo abbassare la guardia. Ottobre richiudiamo tutto per salvare il Natale. Chiudiamo il Natale per salvare la Pasqua. Le mascherine chirurgiche non servono il virus e penetra attraverso la garza. Portate le mascherine chirurgiche. Arrivano i vaccini e una dose sarà sufficiente. AstraZeneca solo per gli anziani. I vaccini vanno conservati a meno 80 gradi. Non si possono mischiare, scadono dopo sei mesi. Vacciniamo anziani e fragili e ne siamo fuori. Mettiamo i colori alle regioni per salvare la campagna vaccinale. AstraZeneca anche per gli under 18. Johnson & Johnson basta una dose. AstraZeneca è pericoloso, va ritirato. Va bene pure mischiare i vaccini, va bene pure conservati. Il richiamo. AstraZeneca non è pericoloso, può riprendere la campagna vaccinale. Due dosi sono sufficienti a dare una immunità a vita. Occorre vaccinare il 60% della popolazione. Occorre vaccinare l'80% della popolazione. Serve un lascia passare vaccinale. L'80% non basta. Occorre vaccinare il 90% della popolazione. Occorre un lascia passare il Green Pass sino al 31 dicembre 2021. Due dosi non danno l'immunità a vita. Ci vuole la terza dose dopo 12 mesi. La terza dose non serve per tutti. È necessaria esclusivamente per gli immunodepressi. Anche per gli anziani. Dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della seconda dose. Il Green Pass durerà 9 mesi. La terza dose non prima di 6 mesi. La terza dose anche entro 4-5 mesi. La terza dose non prima di 6 mesi.